Salve a tutti! In questo video vorrei parlare di un argomento molto delicato. Quando si parla di omosessualità si tira sempre fuori quest'argomento. È una malattia oppure no? Non sono uno scienziato, non saprei dove iniziare a trattare questo argomento. Dato che nella scienza non esiste alcuna verità assoluta, che le cose sono vere fino a prova contraria, che le ricerche sono sovvenzionate da qualcuno con interessi, e che spesso i risultati sono viziati dai pregiudizi che abbiamo. Esiste la possibilità ranota che ciò che dice la scienza sui gay sia sbagliato. Se ciò accadesse l'omofobia sarebbe legittima? Cioè, se i gay fossero davvero malati come si credeva un tempo, saremmo legittimati ad insultarli, odiarli, gattizzarli, picchiarli, e via di seguito? Cerco di farvelo capire con le parole più semplici che conosca. Se una persona è schizofrenica siamo autorizzati a trattarle in quel modo? Sapete quanto è stato fatto affinché le persone malate di mente venissero trattate più umanamente? Basterebbe informarsi su Binsvanger, Basaglia, Foucault e Goffman. Secondo voi è piacevole essere malato di mente? Uno ha scelto di essere malato di mente? Se dipendesse da lui sarebbe malato di mente? Avete idea di quanto sia difficile guarire, di quanto sono faticose le cure, la terapia farmacologica, la psicoterapia, la vita in comunità o in un reparto di psichiatria? In italiano esistono varie parole che usiamo quotidianamente che in realtà sono offensive o hanno origine offensiva. Ad esempio deficiente è più o meno sinonimo di ritardato. Il ritardo mentale è una cosa seria, non lo augurerei a nessuno di essere affetto da ritardo mentale, o di avere un parente o amico affetto da ritardo mentale, oppure scorbutico fa riferimento a una malattia chiamata appunto scorbuto, oppure c'è il caso della parola cretino che deriva da cristiano, in senso dispregiativo ma poi ha iniziato a riferirsi a una malattia chiamata cretinismo, quindi usarla come ingiuria a origini sia discriminatorie verso la religione che verso una malattia. Per non parlare di chi continua ad usare parole come mongoloide, che è un modo offensivo per riferirsi alla sindrome di Down, handicappato, che non ha bisogno di commenti, anche psicopatico, di cui abbiamo parlato prima, dalle mie parti andava di moda dire mongopatico, una crasi tra mongoloide e psicopatico. Nemmeno i malati contagiosi devono essere stigmatizzati, senza dilungarmi troppo, capite che se i gai fossero davvero malati nessuno dovrebbe minimamente permettersi di trattarli come se fossero bestie, anzi nemmeno le bestie meriterebbero un certo trattamento. Io non augurerei nemmeno al mio peggior nemico di essere malato, che sia malattia fisica o mentale, non è piacevole per niente e è difficile da capire, anzi, se i gai fossero malati gli omofobi sarebbero stronzi il doppio, perché discriminerebbero delle persone malate, visto che le malattie non sono affatto una cosa piacevole. Vi invito a riflettere e vi saluto, alla prossima!